Buonasera, 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 la signora è stata vita tanto, 40 anni, voglio dire che prima di queste strade. Con ACEA stiamo facendo tra i mille lavori e in particolare qui nel decimo stiamo rifacendo per esempio anche tutte le fognature a Via Casana, Via Zampi eccetera, un lavoro enorme. Per quanto riguarda l'illuminazione ci muoviamo su due piani, sia portiamo la luce in quartieri che non l'hanno mai avuta e quindi piano piano un pezzetto, una strada qui, una strada lì, sia rifacciamo l'illuminazione artistica di una serie di monumenti, quindi li rendiamo più belli. Il castello l'avete visto? Che meraviglia. Quindi un pezzetto per volta stiamo un po' illuminando tutto, però ci rendiamo conto e credo questo l'ingegnere Sperlatti lo sa bene, che le nostre periferie sono assolutamente buie, queste strade non si possono mai illuminare. Scendiamo, via! Grazie! 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 Grazie!